Alleluia, sei meraviglioso, sei grande e glorioso, sei immenso, Signore infinito, alleluia e gloria al Tuo nome, Signore è il Tuo amore, la Tua santità, la Tua giustizia, non si possono misurare, alleluia e gloria al Tuo nome e in questa Tua immensità, Signore hai messo a primo posto noi, alleluia e a Tua immagine e somiglianza, quindi Ti vogliamo adorare, alleluia e Ti vogliamo onorare ancora tutti insieme questa sera, dall'intimo, dal profondo del nostro cuore, offriamo quindi a Te, oh Signore, l'amore sincero, i sentimenti più puri, alleluia e gloria al Tuo nome e l'intera nostra vita in sacrificio vivente, a Radamassitla, insieme a Gesù benedetto con Te, in eterno, amen, alleluia, amen, amen. Il tuo Padre creatore è il tuo Suo Gesù, adoriamo il grande nome, e seguendo la virtù e abbracciando la parola che lo Spirito ci dà, e adoriamo perunque a Gesù benedetto con Te, oh Signore, a Gesù benedetto con Te, oh Signore, a Gesù benedetto con Te, oh Signore, bello e Battaghiolnico, adoriamo i nostri signori, a Gesù benedetto con Te, oh Signore, guardando, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia. Vedete il Signore ci ha donato lo Spirito Santo che noi meritavamo e non potevamo ricevere. Ecco, vedete, tanti inciampano nel dire, ah, dicono che ricevono lo Spirito Santo. Chi può ricevere lo Spirito Santo? Possono ricevere, o meglio, possiamo ricevere come l'abbiamo posseduto, come l'abbiamo ricevuto e ora lo possediamo. Alleluia. Alleluia. Lo Spirito Santo non perché siamo giusti o eravamo giusti, ma perché siamo stati lavati, purificati con il sangue di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. quindi chi dice non si può ricevere l'ospedale santo perché non si è degno qui non si tratta di essere degni qua si tratta invece di ricevere quella benedizione da parte di Dio quel dono da parte di Dio quell'amore da parte di Dio perché scusate se il Dio ha dato guardate il suo spirito quando ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza cioè ad Adamo che cosa ha fatto il Signore? ha soffiato dice nelle narici e l'uomo divenne un'anima vivente a me gloria a Dio ma lo spirito di Dio può perché fratelli quando il Signore gli soffiò attenzione quando il Signore gli soffiò ad Adamo l'alito di vita fratelli quello è spirito è spirito santo dice perché è spirito santo? perché un Signore che aveva due spiriti uno è santo e non lo so no quindi quando lui soffiò nelle narici diciamo di Adamo gli soffiò il suo spirito il spirito santo allora e lo lo fece quasi simile a Dio amén e allora mi pare che ci cominciamo a ciasciare nel profondo amén alleluia ma come sempre non pensate che abbia qualche cosa l'hai preparato perché l'hai preparato non hai niente manca a casa che l'hai niente preparato quando il Signore quindi ha creato noi diciamo partemmo da là ha creato Adamo quindi l'uomo a sua immagine e somiglianza perché lo creò a sua immagine e somiglianza? praticamente fratelli il Dio creando l'uomo ecco a sua immagine lui in quel momento ha fatto un figlio in poche parole è come se lui avesse fatto un figlio no ma come se lui avesse figlio un figlio non era amardato non c'era Dea no e lui quindi Dio crea tutte le cose come vuole amén e ha creato quindi l'uomo vedete e lo ha guardate lui in poche parole state attenti perché vedete che finì a scherzare quindi ora sto parlando su serio e facciamo bene attenzione e Dio inizialmente uso questo termine anche nei confronti di Gesù per ne capire perché Gesù non è stato creato è stato generato no? e Dio inizialmente quindi generò Gesù amén e quindi il primo figlio poi lui creò un altro figlio quindi il Dio fece due figli come una cosa uno spirituale e un ausomateriale ci siamo non lo scandalizzate e allora uno un figlio spirituale per governare le cose spirituali quello materiale per governare le cose materiali infatti dice tu ora dominate sugli uccelli del cielo sui pesce del mare sui rettili e cose via amén dice ed ogni cosa vi sarà sotto quindi vedete perché Dio creò le cose spirituali e le cose materiali ci siamo quindi per e poi a chi affidare le cose spirituali e le cose materiali cioè mi spiego meglio e vedete che fa fare a non avere cose scritte una faccia di parole giuste allora con chi condividere le cose spirituali eh e con chi condividere le cose materiali ripeto siamo entrati vedete nel profondo perché io sento dentro di me i brividi e sento che il Signore sta ci sta spiegando allora per condividere le cose spirituali allora genererò il mio figliolo spirito amén per condividere le cose materiali la figlia glieli possa affidare allora creerò un figlio materiale materia fratello non poteva secondo voi eh secondo voi eh poteva eh il Signore Gesù che è stato generato poteva lui in spirito pure occuparsi delle cose materiali quindi il Dio sin dall'inizio avrebbe dovuto dare a quel corpo spirituale di Gesù anche un corpo materiale per poter vivere insieme a noi ci siamo alleluia però giustamente tutti gli altri eh noi eh diciamo esseri umani eh avremmo avuto a che fare con diciamo con questo essere cioè Gesù corpo pure materiale eh eh non tanto facilmente ehm vivibile vivere insieme perché lui avrebbe avuto sempre vedete pensieri ecco i miei pensieri non sono i vostri pensieri le mie vie non sono le vostre vie ci siamo quindi allora eh e poi Gesù anche se l'avesse potuto fare fratelli ecco ma chi non è che vuole fare tutte cose quindi eh allora il padre sapientemente sapientemente eh lo ha eh quindi a lui generato spiritualmente e all'uomo ecco vedete creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza perché fratelli vedete che all'inizio alle origini il padre ha detto la stessa cosa eh tra sé e sé ha detto generiamo eh generiamo eh mio figlio a mia immagine e somiglianza e allora per generare quindi suo figlio a sua immagine e somiglianza come farlo per essere identico a lui lo genera cioè lo riproduce ma guarda se dice così no dalla sua stessa cellula vivente amen e quindi origina da origine a un essere uguale a lui a sua immagine e somiglianza però a livello spirituale amen allora dice che faccio che facciamo particolarità quando creiamo l'uomo sulla terra materiale creiamo anche lui a nostra immagine e somiglianza ci siamo non riesco a farmi capire sono cose profonde fratelli che io non faccio fatica cioè ho paura di far fatica per farvi capire perché io lo capisco io lo capisco a me io non ho bisogno di ulteriore spiegazione da parte del signore perché lui è come una fotografia e mi stampa tutto costantemente sono io che poi ho paura che nel trasferire a voi queste cose non le sappia trasferire nella maniera completa ecco perché mi chiedo questa volta avete capito cioè mi sono saputo spiegare vedete come il Dio non aveva fatto particolarità quindi in poche parole a te figliolo mio a Gesù no ti faccio governatore dei cieli dell'universo che sei spirito a te ad amo che ti ho creato dalla materia per governare sulla materia ti faccio governatore di tutta la materia fratello se c'è qualcuno che non riesce a capire perché io non sogno tanto bravo fratello lo sai non capia tanto premura non avevo giusto qui ha un premura allora ripetere quindi vedete allora non ha vedete dato pure il corpo materiale a Gesù perché appunto Gesù si sarebbe dovuto interessare delle cose spirituali e delle cose ripeto materiali e le due cose non potevano andare tanto bene non attenzione per il Dio perché Gesù non era all'altezza ma eravamo noi stati creati dalla materia non in grado di capire e di collaborare con questo nostro padre e fratello maggiore e allora vediamo perché effettivamente c'è bisogno anche di questa spiegazione allora dice perché se Gesù avesse quindi avuto anche sin dall'inizio un corpo materiale come Atamo che c'era dove era il problema ecco il Signore mi ha dato il vocabolo giusto l'incompatibilità questo intelligente al lato ci spiega quello che sta al lato che vuole dire incompatibilità quindi ci sarebbe stata questa incompatibilità tra noi e Gesù dice e per chi non vi scandalizzate perché ve lo spiego subito perché mentre in Gesù c'era la parte spirituale divina intera in noi in Adamo essere essere creato solo dalla materia gli mancava tutta quella pienezza spirituale che possedeva Gesù ecco l'incompatibilità amen mi spiego buono così così dice insomma l'importante che mi capite amen vedete qual è questo era quindi la cosa non poteva andare perché per poter andare perché vedete ci potesse essere questa compatibilità non incompatibilità ecco anche noi dovevamo essere creati nella medesima maniera che è stato generato Gesù e allora non ci sarebbe stato un solo Gesù ci sarebbero state tanti simili a Gesù no alleluia e allora ma dice ma scusa ma c'era tutta sta necessità il Dio di creare anche le cose materiali non poteva creare soltanto le cose spirituali cioè anche noi no invece quando ha detto a Gesù creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza invece di creare ad amo soltanto materia non l'avrebbe potuto creare sì l'avrebbe potuto fare e sapete che avesse nasciuto no un angelo quindi ad amo sarebbe stato un angelo infatti gli angeli sono stati creati all'immagine e somiglianza di Dio a livello spirituale ma non con la stessa pienezza di Gesù perché Gesù è stato generato dalla stessa cellula del padre gli angeli sono stati invece creati eh dalla ora dallo stesso corpo di Gesù eh e come Gesù anche se della stessa natura e sostanza del padre è inferiore al padre gli angeli anche se sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio e di Gesù Cristo eh però sono sempre inferiori non al padre ma a Gesù addirittura ecco vedete quindi la cosa e il Signore ci ha dato questa dimostrazione vedete io dici li potevo creare soltanto a livello spirituale infatti guardate come eh tra ascoltatemi bene guardate come tra Gesù e gli angeli c'è questa perfetta armonia questa compatibilità amén perché l'uno comprende l'altro eh gli altri comprendono Gesù vedete e quindi eseguono gli ordini a livello spirituale per i lavori spirituali amén quindi eh avrebbe fatto un buconto all'acqua il Signore creando adamo ora pure da poter parlare con Dio eh condividere le stesse cose fare perché il Signore lo ha fatto inizialmente l'aveva fatto così perché adamo condividesse con Gesù e con il Padre le cose materiali terrene però vedete lui non essendo stato ed è forte in grado di eh governare la propria vita eh il Signore gli ha tolto anche di governare le cose terrene in questo istante il Signore mi ha dato una bella spiegazione una bella ehm rivalazione spiegazione diciamo guardate che quando adamo ha disubbidito a Dio e doga un nagato scecco dici ehm state attenti che è una cosa meravigliosa anche se non la capite subito la capirete più tanti e allora ehm quando Adamo ha sbagliato ehm ehm ha dimostrato attenzione ehm ha dimostrato di non sapere governare la sua stessa persona ma fermo un attimino riflettete quando Adamo e anche Eva ecco prendiamola tutti due ore quando Adamo ed Eva hanno peccato hanno dimostrato di non saper governare la propria vita e tu sporcaccione che non si alza non hai saputo governare la tua vita e voi governare l'universo allora il Dio gli ha dato quel governo e la terra ti produrrà spine e triboli tu lavorerai alleluia col sudore della tua fronte alleluia mangerai il tuo pane amén gloria a Dio vedete alleluia onestamente l'uomo è stato schofoso proprio meschino indegno agli occhi di Dio perché vedete non gli ha dato neanche fiducia a Dio gli ha dato più fiducia al diavolo e al serpente anziché a Dio vedete che noi ripetono in dialetto diciamo una cosa schifosa amén gloria a Dio che meschinità guardate l'uomo come è caduto in basso proprio nella niente 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 fratelli ci poteva essere diciamo intesa tra l'uomo materia e Gesù spirito e materia no vedete perché bastavo fratelli che neanche ci ha andato il diavolo neanche il diavolo ci è andato in persona il diavolo ci mandava seppenti alleluia benedetto benedetto sia all'altissimo amén che alleluia che poteva benissimo Adamo e pureva potevano benissimo ecco controllarsi controllarsi come quando il signore gli ha detto a Caino dice fai attenzione perché il peccato ti sta spiando e alle porte alle tue porte ti sta spiando ma tu lo devi lo devi lo devi dominare alleluia amén gli ha voluto dire vedi tu devi ti devi autocontrollare autodominare ecco fratelli quando noi non abbiamo l'autocontrollo il signore dice ma sotto non sei cosa nelle cose piccole come ti posso affidare le cose grandi ed eccelse ecco vedete perché tutta questa selezione nell'arco della nostra vita e nell'arco della vita dell'essere umano sulla terra perché il signore deve ecco trovare deve selezionare prendere quegli elementi che veramente si sanno anche autocontrollare io ho questo defetto il signore sape mi va a perdonare ma non mi sa controllare hai detto di amare con una pesa coggiore che uomo sei che donna sei che non ti sai controllare non ho capito ecco l'autocontrollo ad amo per non sapersi e pure per non sapersi controllare autocontrollare hanno perso tutto come si dice chi troppo vuole non lo ottiene non lo stringe amén gloria al signore gesù vedete alleluia e quindi come il signore ora fratelli questi discorsi vedete che il signore li sta facendo pian piano pian piano man mano che noi andiamo avanti che lui ci fa crescere al livello spirituale perché questi discorsi fratelli il signore non ce li poteva fare un paio di anni fa e ancor meno decenni di anni fa amén vedete quindi piano 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 il signore ci sta facendo crescere in modo tale che quando lui ci spiega le cose più profonde noi le possiamo capire grazie al suo aiuto alleluia amén quindi e allora quando allora il signore soffiò vedete nelle narici di di Adamo ecco volendo riprendere il discorso quindi il signore gli ha dato seguitevi attentamente gli ha dato il suo spirito quello è spirito del dio fratello spirito santo solo che il signore gli ha dato lo spirito appunto per farlo vivere alleluia e in quello spirito attenzione e in quello spirito che dio gli soffiò ad Adamo guardate chi c'era niente un altro di vita da argilla diventava un essere umano che fice niente una cosa da niente c'è sapete non di più di poco ma di più di molto perché in quell'alito di vita che il signore soffiò in Adamo eh sapete che c'era il bene di Dio come diciamo noi pure in dialetto scusate che ogni tanto io uso fratelli ci sono soddisfazione parlare pure in dialetto perché mi hanno a capire pure ci sono persone anziane con l'italiano tanto tanto buono non capiscono un po' meglio di me ma non tanto capiscono e allora e allora quando il signore ha soffiato nelle narici a me in quell'alito sapete che c'era c'era tutto c'era la sapienza l'intelligenza ogni virtù conoscenza in quell'alito di vita in quella eh c'erano e aprite l'occhio ai ricchi c'erano in quell'alito di vita che Dio soffiò c'erano tutti quegli elementi o ingredienti come li vogliamo chiamare perché l'uomo potesse produrre potesse generare ho capito tutti ma pare che non tutte che la resta o c'erano l'occhio o non capire un po' e allora nell'alito di vita che Dio ha soffiato in Adamo c'erano tutte le virtù che possediamo noi oggi che possiamo possedere oggi noi tutto compreso compreso quegli ingredienti ingredienti in modo tale che poi successivamente con Eva con l'accoppiamento venissero alla vita altre creature umane altri esseri umani sempre in quell'alito di vita niente c'era l'alito di vita solo per camminare come un robot c'erano correnti e Adamo cominciava a camminare come un robot altro che quando Dio soffiò in Adamo proprio in quel soffio c'era tutto quanto doveva servire all'uomo per poter governare su tutta la creazione alleluia amen quindi in poche parole infatti guardate noi facciamo la nostra parte per esempio noi zappiamo la terra giusto? allora se noi non zappiamo e non seminiamo non nasce e non cresce niente amen alleluia allora vedete questa sapienza l'ha data a Dio perché dice tu fai la tua parte io faccio la mia parte infatti non siamo noi che facciamo germogliare quindi nascere e crescere ma è Dio però no ecco la collaborazione con Dio eh allora vedete noi praticamente noi lavoriamo sempre con Dio facciamo tutto in collaborazione con Dio più fedeli a Dio siamo più le cose le facciamo bene con sapienza divina non sapienza umana alleluia riesco a farmi capire sono riuscito a farmi capire pure in questo ecco perché necessita vedete questa comunione con Dio alleluia amen in modo tale che tutto quello che noi facciamo eh eh lo possiamo fare sapientemente non con la sapienza umana solo ma con la sapienza di Dio collaborando con Dio ecco quando ecco perché vedete il Dio ha detto ad Adamo eh dice ecco ora la terra riprodurrà spine e triboli e tu mangerai il pane col sudore della tua fronte perché non ci sarà più questa intima collaborazione fra me e te sono riuscito anche questo a farmi capire perché se Adamo non avesse peccato allora ci sarebbe stata sempre questa collaborazione perfetta con Dio tu semini io ti benedico faccio nascere crescere portare frutto tu mangerai e godrai non ti affaticherai senza peccato con il peccato ora no non ci sarà più collaborazione tra me ti io faccio nascere faccio crescere perché devo portare avanti il mio progetto amè perché se ho creato l'uomo a mia immagine e somiglianza l'ho creato per un motivo ben preciso fa parte del mio progetto amè perché vedete il Dio nel suo progetto ha stabilito ha progettato questo che l'uomo creato dalla materia viva con gli angeli che sono state create a livello spirituale e con Dio e con Gesù a me gloria al Signore vedete quindi e il Signore vedete ha creato diciamo pure la materia perché se lui non l'avesse creata l'uomo dalla materia speriamo che io mi sappia spiegare voi che mi sappiate capire se il Dio non avesse creato la materia e non avesse creato anche noi l'uomo per governare sulla materia dominare la materia amè infatti l'uomo vedete chi ha una subaluna avrebbe potuto fare cose ancora più grandi ormai queste sono briciole che sta facendo l'uomo vedete che sapienza quando Dio ha soffiato appunto nelle narici di Adamo che cosa gli ha trasmesso gli ha trasmesso all'uomo di fare pure come si chiamano i navicelli spaziali di girare fratelli ecco che cosa c'era in quell'alito di vita amè in gloria all'artissimo e allora praticamente se Dio si fosse fermato soltanto alla ripeto è un modo mio per farmi capire alla creazione spirituale anche di Gesù stesso allora il Dio avrebbe come dire non sottratto omesso sì insomma spero che mi hai capito lo stesso allora avrebbe omesso alla sua potenza alle sue capacità la parte materiale mi spiego mi spiego meglio se il Dio non avesse creato la materia perché il Dio prima creava la materia e poi l'uomo dalla materia è giusto ci siamo se lui non l'avesse fatto allora l'opera di Dio sarebbe stata meglio rimasta incompleta perché in base alle capacità divine doveva ecco per essere Dio per manifestare la sua Deità doveva anche creare la materia e l'essere umano tratto dalla materia sono riuscito a farmi capire cioè è come se io con la mia intelligenza e con il materiale che ho non faccio una determinata cosa dice come fratello con l'intelligenza che hai e con il materiale che hai non hai fatto tutta la cosa sono riuscito con questo con questo esempio a farmi capire quindi il Dio per posersi manifestare nella sua pienezza amén come Dio amén allora crea l'universo all'universo e dopo che te crea l'universo eh non te crea all'uomo eh e dopo fratello che crea i mari e non te crea i pisci o no e dopo che crea un uccello non te fai gli uccelli e dopo che ti crea la terra tutta bella con i suoi fiori le sue piante e svariati colori e non so svariati tipi di piante con le svariati tipi di sostanza e non ti crea gli animali perché ecco che che diano vita o no fratelli ecco allora Dio si è espresso in quella maniera mediante la creazione di tutte le cose alleluia amè gloria a Dio quindi e pensate eh noi esseri umani eh guardate siamo gli unici tanto è vero guardate che noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio in tutte le cose che l'essere umano è l'unico a poter fare tutte le cose che sta facendo e nessun essere eh diciamo non umano nessun essere vivente animale ha potuto e può fare le cose che l'uomo fa è vero o no? vedete siamo gli unici perché noi siamo stati creati ad immagini e somiglianze di Dio e possediamo le sue quindi le sue virtù le sue sostanze i suoi ingredienti che ha messo dentro di noi perché il nostro il nostro corpo eh faccia la sua parte sulla terra quindi il Signore ci ha dato anche vedete il seme della vita alleluia e infatti noi generiamo e infatti che cosa gli ha detto lui ad Amedeva dopo averli creato crescete e moltiplicatevi amene come ci potia dire crescete e moltiplicatevi se il Signore non gli avesse dato quegli ingredienti esistenti nell'uomo e nella donna poi potete fare vigi è vero tutto questo grazie a quell'alito di vita ecco perché vedete alleluia quindi in noi vedete nel nostro allora guardate gloria all'altissimo noi vediamo che c'è il seme no di di tutte le cose prendiamo di un albero no il seme di un albero in quel seme tutto sommato se noi lo eh prendiamo quel seme e lo sbricioliamo che vediamo da dici niente no se è un seme di zucca ma sta cammo è un seme di zucca vero niente però guardate se noi prendiamo quel seme di zucca lo mettiamo nella terra noi eh successivamente scopriamo eh e se non l'avete fatto mai ponete mente ora eh quando noi vediamo che quel seme di zucca germoglia quindi nasce quindi cresce il seme eh diventa pianta fratelle fa tante delle zucche di quelle zucche fa tante delle fiori che pur si mangiano eh ma c'è tutte queste cose univigiao dov'erano contenuti tutte quelle sostanze quegli ingredienti eh che quel seme germogliando ha dato origine a una pianta a delle foglie a dei fiori a dei frutti contenenti altri semi e pensate e pensate alla grandezza di Dio che se voi prendete no eh diciamo un seme di zucca no un seme un seme di zucca ehm i conosci di zucche quelle rosse no si o no le conosci ma poi anche le zucchine che si fanno fritte capasta no non è che se non la meno eh qual'ho contattato zucchina rossa zucchina zucchina chi da donna quella rossa rogo rossa ah ma allora portiamo l'esempio su qualche stucca poi la zucchina butta s'affegna comunque allora la zucchina voi pensate che una zucchina un semino un semino no tantito lo sapete il seme di zucca quanto è rosso no o ti fanno una zucca che può pesare pure 20 kg quindi pensate che quel seme piccolo ti fice una zucca di 20 kg e non solo aprendola dentro sapete che cosa me ne sono accorto che fice tanto di semi che posso fare un campo di guzzi zucca guardate in un piccolo seme quello che Dio vi ha messo come in un piccolo spermatozoo quello che il Signore ha messo l'origine della vita dell'essere umano vedete che tutte le piccole cose create da Dio contengono svariatissime cose alleluia amen gloria Signore e pensate che oh fratelli guardate che conno il seme di una zucca di una zucca eh uno non dica seme in un paio d'anni eh poi gli incredono tutta la Sicilia delle zucca perché tante tante seme tante piante poi ogni seme ecco ah eh gloria a Dio per esempio guardate io vi dico questo eh e allora ai un figlio vecchio ah bello vedete questa spiga ha stato ha stato potendo ah se vuoi contare aspetta uno due tre quattro cinque sei sette otto anche dieci dieci vinte centa quaranta cinquanta sessanta setta ah qualche cento cento chicchi di grano contiene questa spiga sapete questa spiga come è venuta all'esistenza mediante un cosino di questo uno solo uno solo uno solo di queste ne ha fatto cento uno solo vedete e se Adamo non avesse peccato ne avrebbero fatte ancora di più e ancora meglio e non solo ancora meglio anche più sostanziosa e anche con meno fatica non ci sarebbero state le carestie non ci sarebbero state terremoti non ci sarebbero stati inquinamenti eh tutto sarebbe stato una delizia nel giardino di Dio il Signore sia benedetto ora e sempre in eterno Amen Alleluia Amen che l'opera delle nostre mani possa essere da te guidata e benedetta Alleluia Gloria al tuo nome che non abbiamo Signore a soffrire Signore e che non abbiamo Signore a raccogliere col sudore della nostra fronte Alleluia Gloria al tuo nome perché ti amiamo Signore Alleluia ti amiamo in verità Alleluia ti vogliamo servire Signore ed onorare come tu ne sei degno lo Spirito tuo santo che ora è giunto in noi Signore Spirito Alleluia Gloria al tuo nome che ci porta al di là di quello anche che potevamo fare alla massita la massia Alleluia Alleluia Gloria al tuo nome possiamo Signore realizzare questa perfetta comunione con te con Gesù mediante appunto lo Spirito tuo santo e fare la tua volontà qui in terra come nel cielo a gloria tua e di Gesù benedetti in eterno Alleluia Amen 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 Come piccoli fanciugli che all'Eterno ci volgiamo e fedeli l'adoriamo come Dio, re dei lupi, che a noi poveri ha donato e anche il sede del suo regno, pure il figlio suo proletto e nel cuore del dolore. Vi è la pace con il cielo, vivo di gratualità e per me la gioia mi darà e il nemico più non c'è. Come i tuoi uomini o più rupi, che hanno fatto l'Eterno c'è il piano al suo rospetto e da lui gli scampi asciuti e più a sorte ha la parola e portarci dal suo dono. Nella grazia abbiamo il dono e il suo braccio ci consola. Gli è la pace con il cielo, vivo di gratualità e per me la gioia mi darà e per me la gioia mi darà e per il mio mio più non c'è. Gli è il tuo nome di gratuazione qui il tuo nome mi sostiene e il pane della grazia e ti cima in colpi stanzia di ogni anelito di bene. Dunque prendi l'acqua santa nella casa del Signore che adora e suona e canta come senti nel tuo cuore. Qui è la pace dove il cielo mi provi la tua vita e per te la gioia vita e il venipo più non c'è. Amen, Amen, Amen. Alleluia, così ti chiediamo grazia, Signore, di accompagnarci alle nostre case con la guida dello Spirito Santo e di continuare a meditare su tutto quello che ci hai spiegato ancora questa sera e che magari sul momento non siamo riusciti a capire il tutto. Sì, oh Signore, lo Spirito Santo quindi ci accompagna e ci guidi in ogni cosa affinché l'intero nostro essere possa essere veramente consacrato a te guidato, Signore, per onorarti, servirte ed amarti qui in terra, lassù nel cielo per tutta l'eternità insieme a Gesù benedetto con te in eterno. Amen, Amen, Amen. Dio siamo d'amore.